Il caso delle falegname Eritreo, arrestato perché ritenuto un boss del traffico di esseri umani, la Corte d'Assise di Palermo riconosce in sentenza l'errore di persona. Lui ha sempre sostenuto che non fosse lui. Io non sono lui. Lui, sì, lui somiglia tanto a me, ma non sono io. Lui è un'altra persona. Così ha ripetuto a perdifiato un africano dell'Eritrea, Medanites Famaryam Beret, 32 anni, detenuto in carcere dal 24 maggio del 2016. Perché? Ritenuto un cinico e spietato trafficante di uomini. Il super ricercato Medanite, 37 anni, conosciuto come il generale. Adesso la Corte d'Assise di Palermo, presieduta dal giudice Alfredo Montalto, ha riconosciuto l'errore in sentenza. Sì, lui, l'arrestato e carcerato non è il ricercato. Sono molto somiglianti, ma il detenuto non è il trafficante. Il calvario in terra di Sicilia dell'Eritreo innocente inizia alla mezzanotte di martedì 7 giugno del 2016, quando a Roma è atterrato in volo dalla Sudan, da dove è stato estradato lui, presentato e accolto come Mered Medanì, lo spregiudicato trafficante di esseri umani, boss, alle redini delle galoppate dei migranti, dall'Africa alla Libia e le mare, alle coste siciliane, verso il nord Europa. Alcuni amici del presunto Mered Medanì si affannarono a spiegare. Non è lui la persona che cercano. È stato uno scambio d'identità. E il giovane arrestato è innocente. I suoi compagni di gioventù aggiunsero Non credo possa essere coinvolto in niente del genere. È una persona buona. Fin anche una giornalista svedese di origine eritrea, che nel 2015 ha intervistato il vero Mered Medanì, ribadì che il giovane arrestato, ritratto nelle fotografie, non è lui, il boss Medanì, e giurò. È solo un rifugiato che si trovava a Khartoum. Dunque l'eritreo, che è un falegname, è stato scaggionato. Il giudice Montalto lo ha condannato a cinque anni di reclusione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché avrebbe contattato e pagato denaro ad un trafficante per la traversata di due suoi cugini. La misura cautelare per tale reato non è applicabile oltre i tre anni. E pertanto l'eritreo, difesso dall'avvocato Michele Calantropo, è stato scarcerato. A testimonianza dello scambio di persona è stato il confronto tra il DNA dell'eritreo e il DNA del figlio di tre anni del generale. Il prelievo del DNA, che ha rivelato la non paternità dell'eritreo, è stato eseguito dalla difesa dell'imputato. Tuttavia non è stato accolto come prova dalla Corte d'Assise. E la Procura ha invocato la condanna del falegname a 14 anni di reclusione per associazione a delinquere pluriaggravata, additandolo come il capo di una delle maggiori organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di migranti tra l'Africa e l'Europa. Grazie. 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 Grazie.